Ok, Andre, sai che siamo in diretta con l'informazione online? Ah, figata, bellissimo, benvenuti tutti allora! Benvenuti alla ventitresima edizione del Giro del Varesotto 2023! 2023, sì! E quest'anno partiamo qua da Busto, che notoriamente era l'ultima tappa di solito, prima che uscisse dal Giro, quest'anno è entrata alla grande, abbiamo più di 400 pre-iscritti, non sappiamo qual è il numero totale degli iscritti di questa sera, che magari parteciparanno a tutto il Giro, e Andre, bupe che arrivano da tutte le parti! Da per tutto, noi abbiamo gruppi che vengono dal Varesotto, dal milanese, addirittura dalla più vicina a Piemonte, con gli amici implicati sempre numerosissimi, il Podismo e Cazzeggio, l'Atletica San Marco, l'Atletica Casolate, insomma tante società che coloreranno le vie di Busto stasera per aprire questa edizione 2023 del Giro del Varesotto! Allora, un'edizione, comunque sei tappe, che saranno l'insegna del diventimento, dello sport e dello stare insieme veramente all'insegna del podismo serale, che il Giro del Varesotto riesce ad unire tutti questi meravigliosi podisti! Esattamente, esattamente! Come mai Busto Arsizio prima tappa? Allora, è capitato un po' per caso a dire la verità, e ci è andata bene perché quest'anno il Giro del Varesotto parte con il vestito buono, siamo nella city di Busto Arsizio, appunto, le prime che chiedeva quest'anno apre, non entriamo nei dettagli, comunque siamo contentissimi che Podismo e Cazzeggio, Busto Arsizio, Freelan, faranno da cornice a questa prima tappa del 2023! C'è stato un preambolo l'anno scorso con la proposta di entrare nel 2024, ma abbiamo ritenuto che già da quest'anno si poteva entrare tranquillamente! Benissimo! Ciao a tutti ragazzi, buon giro! E vi aspettiamo il Giro! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Buon giro a tutti! Ale, 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 ale! Forza ragazze, forza ragazzi! Buon parere, forza, 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 forza! Andiamo al traguardo, facciamo il Giro del Varesotto! Come l'avevo vista! Ale, 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 forza ragazze, forza ragazzi! Forza, 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 forza! Guarda, facciamo il Giro del Varesotto, Andretica Trevini, Andretica Trevini, Oh, ma quanti sono! Quanti sono, fai quanto sono belli, bellissimi! Forza ragazze, forze! Andretica, secondo me, anche io sono mille! Stasera mille! Dai, mille, 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 mille! Forza, forza, forza! Sotto i 15! E' sempre lì! Andretica, soffiettini, bellissimi! Andre, grande Andre! Vado io, vado io, vado io, vado io all'Andretica, perché lo vedo ancora energico, ne ha ancora da spendere! L'alto è un'altra! Andretica, quello che viene avrà! Bravo! Bravo! Scolta, 6... L'alto è un'altra! 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 Grazie a tutti.